Da oggi e fino a domenica il lungomare Caracciolo si trasforma nel luogo più goloso della città. Dopo i successi di Firenze, Roma, Milano e Nizza, il Festival del Gelato sceglie Napoli per celebrare le origini italiane di una specialità divenuta famosa nel mondo. Per quattro giorni consecutivi, senza alcun costo d'ingresso, sarà possibile assaporare i gusti più originali e le tendenze del momento, ma anche ammirare e votare le creazioni dei maestri gelatieri in gara nel più grande laboratorio mobile che sia stato mai costruito. Le prime note sul gelato napoletano in città e a Parigi risalgono ai primi secoli del Medioevo e quindi su questo c'è una storia che parla nei fatti. E in più rilanciare identità, storia, ma anche le tante innovazioni che il gelato sta producendo in questi anni seguendo le nuove diete e anche i gusti delle persone, significa affrontare un tema importante per la città ma anche per il nostro paese. L'appuntamento è su Lungomare Partenopeo, altezza rotonda Diaz, con un fitto calendario di eventi. Si terranno laboratori a tema sulla preparazione del gelato artigianale e sarà possibile seguire da vicino le preparazioni degli chef. Lungomare Caracciolo ci è sembrata una location talmente eccezionale, una città così bella, così accogliente e con una tradizione anche sul mondo del gelato così significativa a livello internazionale che il tour del Gelato Festival non poteva che passare anche da Napoli. Un ricco palinzesto di corsi, di show cooking, dove il pubblico potrà imparare a fare il gelato a casa, conoscere e saper distinguere le differenze tra un gelato di qualità e un gelato non di qualità, piuttosto che abbinamenti tra il salato e il gelato. La tappa napoletana è l'ottava del tour che toccherà 10 città italiane, 5 in Europa e si concluderà ad Amsterdam il 10 agosto. In occasione della seconda partita dell'Italia ai mondiali, venerdì 20, sarà presentato in anteprima il Gusto Mundial, ispirato ai colori della bandiera brasiliana.